Quando si prende un cucciolo, spesso e volentieri non si calcolano alcuni aspetti, ci facciamo trascinare dall'aspetto proprio emozionale. Poi dopo, quando una volta siamo arrivati a casa, cominciamo a farci le vere domande, quelle che poi faranno differenza tra un buon proprietario e uno no. Quindi non teniamo in considerazione la longevità del cane, i bisogni primari e secondari del cane, non teniamo in considerazione le limitazioni che dà un cane. Perché ricordiamoci che il cane è, oltre che un impegno giornaliero per 365 giorni all'anno, per un'età media di 14 anni. Lo scopriamo poi, lo scopriamo dopo e spesso e volentieri abbiamo questa superficialità, se vuoi, a prendere il cane. Allora prima di fare tutto questo poniamoci le domande e domani comincieremo proprio con questo. Poniamoci le domande giuste, vediamo se il nucleo familiare è pronto ad adattarsi alla vita del cane, o il cane è in grado di adattarsi alla nostra vita. Quando e dove si svolgerà l'incontro? Allora, si svolge domani sera alle 18 al centro commerciale San Lazzaro, presso la sala Alcubo, ed è tutto gratuito. Quindi tutti possono intervenire, dedicato sia ai proprietari di cani che agli aspiranti tani. Quindi chi vuole intervenire è benvenuto.